Come marinare i pomodori. Laviamo i pomodori, mettiamoli in un panno ed asciughiamoli. Tagliamo i pomodori in quattro. Sbucciamo uno spicchio d'aglio. Tritiamo l'aglio in modo finissimo. Persiamo l'aglio sui pomodori. Aggiungiamo due cucchiai di olio evo, un po' di sale, un po' di origano tritato. Mescoliamo tutto insieme. Facciamo marinare per circa 20 minuti per poi condire pizza o bruschetta.